Ciao ragazze e bentornate sul canale! Il video di oggi è appunto un giveaway perché volevo ringraziarvi perché comunque state crescendo piano piano e perché ero appunto in Germania e ho pensato di farvi qualcosa per voi appunto per ringraziarvi perché mi seguite, guardate i miei video e quindi ho deciso di prendervi delle cosine allora, ho preso questa crema corpo da Raspberry Kiss della marca Tricol Moon allora, si sente già l'odore? non è stato usato ovviamente tutte queste cose non sono mai state aperte è un profumo veramente molto buono di lamponi e comunque vedete è anche abbastanza grande perché sono 350 ml poi ho preso questo burro cacao qui della La Vera quello della linea Basis Sensitive appunto ha l'olio di jojoba e le mandorle dolci poi di questo marchio che vendono al Muller ho preso questa crema per pelle secca sensibile comunque è da utilizzare durante l'inverno per chi ha un po' magari la pelle che si screpola magari che non so ai lati del naso o comunque dov'è che avete la pelle un po' più sensibile magari che soffre un po' più il freddo e queste sono 100 ml ed è completamente biologica poi ho preso della Terra Naturi questo peeling per il viso ecco qua sono 50 ml anche questo è un prodotto vegano poi vi ho preso sempre della Terra Naturi questo rossetto che è lo stesso che ho io ed è il numero 09 Deep Red adesso non ve lo apro comunque l'avete già visto nell'altro video in caso ve lo ve lo linko sotto nel box informazioni il video dell'ol della Germania dove appunto potete vedere il colore di questo rossetto qui poi vi ho preso infine due cose per il bagno per la vasca sperando che la vincita di ciabbi appunto una vasca e quindi abbia modo di utilizzarlo se no regala da un'amica insomma queste bombe simile della Lush della marca Body and Soul Wellness questo è al frutto della passione e Marula All che non ho idea di che cosa sia comunque questa bomba da bagno e questi cuoricini sempre da bagno che ho preso anche per me che è sempre trovata nel video dell'ol questi cuoricini che appunto vanno sciolti nell'acqua al loro interno hanno come potete vedere altri cuoricini che si dovrebbero spargere per tutta la vasca e niente ragazzi le regole per partecipare sono le stesse più o meno di ogni giveaway ossia essere iscritti al mio canale mettere mi piace al video condividerlo su google plus insomma cercate di invitare qualcuno almeno più persone hanno la possibilità di partecipare di vincere questi piccoli premi e ovviamente di lasciare un commento allora il giveaway terminerà il 22 di dicembre ho appunto deciso di farlo durare un mese per dare più possibilità e potete lasciare uno o più commenti decidete voi e l'estrazione appunto la farò il 22 con il sito suadeo.ch registrerò ovviamente l'estrazione in modo che il giorno stesso magari il pomeriggio oppure la mattina dopo ve lo metterò online in modo che appunto potete vedere chi è che ha vinto ovviamente il vincitore o la vincitrice mi deve mandarci il vincitore perdonatemi o la vincitrice mi manderà un messaggio privato così mi stiamo d'accordo per la spedizione ovviamente ecco un'altra regola dovete essere residenti in Italia e niente ragazzi io vi saluto vi mando un bacio spero che appunto partecipiate in numerose perché appunto mi farebbe troppo piacere che veramente questi piccoli regalini ve li ho fatti proprio con il cuore perché ero là dato che ho appunto il canale voglio regalare qualcosa anche a loro e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video mando un bacio ciao ciao